bentornati a un nuovo appuntamento di a lavoro con un po' tutti c'è anche Sergio ma in generale un po' tutti salutate e chi non si vuole fare inquadrare si faccia inculare Sergio abbiamo guadagnato noi oggi siamo con due donzelli ma quanto è bello sto ragazzo ragazzi ragazzi quanto è bello secondo me Sergio mi abbandona dove vai? dove vai Sergio vai dietro una ragazza e mi lascio il quale sono alla prossima video